bentornati sul canale youtube della farmacia agricola di lioni azienda che si occupa da un 40 anni ormai di prodotti e attrezzi per l'agricoltura oggi parleremo di piccoli attrezzi piccoli ma indispensabili attrezzi per innestare le piante abbiamo l'innestatrice che noi definiamo professionale e l'innestatrice 3t sono due innestatrici completamente diverse effettuano lavoro un lavoro differente e andremo fra un attimo a vedere di preciso di cosa si tratta per la produzione e per produrre innesti è necessario ovviamente disporre di marze idonee porta innesti idonei e contemporaneamente del nastro specifico per innesti in questo caso abbiamo il nastro utilissimo per piccoli innesti a gemma o innesti molto molto delicati e contemporaneamente abbiamo disponibile il nastro autostringente ovvero un nastro che prodotto composto da due parti una parte che serve esclusivamente per avvolgere la matassa l'altra parte che serve per serrare l'innesto le due innestatrici come funzionano allora prima di tutto come ho detto un attimo fa dobbiamo procurarci delle marze le marze devono avere pressoché lo stesso diametro degli del del porta innesto quindi cosa numero uno ci procuriamo le marze in questo caso questo semplicissimo esempio un rametto di circa un centimetro di spessore e su questo rametto facciamo finta essere il nostro porta innesto andiamo a fare il taglio con l'innestatrice che io definisco che noi definiamo professionale l'innestatrice professionale da come potete vedere a delle lame che vengono giù a ghigliottina e poggiano su un incudine specifica nei momenti in cui le lame vanno giù essendo in acciaio effettuano un taglio in obliquo verticale e che vedremo fa un attimo essere particolarmente particolarmente pulito posiziono in maniera perfettamente centrale la marza con una semplice pressione effetto il mio taglio in questo caso ho prodotto la parte femmina del mio porto innesto quindi possiamo utilizzare questa parte per il mio porto innesto l'ideale per poter ottenere un buon innesto a v perché questa innestatrice professionale produce esclusivamente un innesto a v è quello di utilizzare di fare in modo che la v sia perfettamente precisa e simmetrica in questo caso ho sbagliato la ripeto quindi posiziono in maniera quanto più centrale possibile il mio porto innesto e vado ad effettuare la mia pressione di taglio ecco in questo caso l'innesto che ho prodotto è perfettamente simmetrico una cosa molto molto bella di questa innestatrice che non dobbiamo andare a rifinire con altri strumenti in quanto il taglio risulta pulito privo di spacciettature è già pronto per poter accettare la marza o il nesto andiamo a questo punto a procurarci su un'altra pianta il nostro il nostro la nostra marza a questo punto dobbiamo fare attenzione che ovviamente siano di un diametro che sia pressoché simile ok quindi andò a tagliare più o meno a questa altezza questa è un'operazione che facendole in campo dipenda un pochettino più laboriosa c'è necessità ovviamente di una di una certa attenzione però è un'operazione che potete fare in pochi in pochissimo tempo a questo punto il mio la mia marza dovrà avere per poter essere accettata nel mio porta innesto il complementare del taglio quindi andiamo a posizionare sempre in maniera perfettamente centrale la marza all'interno dell'innestatrice ci assicuriamo che cada in maniera centrale e effettuiamo il taglio una volta effettuato il taglio ci rendiamo immediatamente conto che per quanto è pulito e per quanto è preciso non necessita di ulteriori rifiniture se non quella di essere applicato all'interno della porta innesto e quindi di essere letteralmente serrato ecco che abbiamo prodotto un innesto perfettamente coincidente non ci resta che a questo punto utilizzare il nostro nastro in questo caso possiamo utilizzare il nastro doppio ne prelevo una piccola quantità e applico il nastro sull'innesto facendo in modo che svolga sia una funzione di serraggio orizzontale e contemporaneamente deve serrare i due le due parti per fare in modo che non si scollino perché un semplice serraggio orizzontale non è sufficiente quindi che cosa faccio applico sono mi assicuro che coincidano alla perfezione effetto un semplice giro iniziale di posizionamento ovviamente ci vuole una certa manualità mi assicuro eliminiamo il grosso così mi assicuro ecco che serro orizzontalmente poi vado verso l'alto scorro verso il basso in modo da serrare l'innesto anche in maniera verticale facendo in modo che le due parti si pressino tra di loro ho letteralmente fatto una x quindi salgo scendo risalgo riscendo e contemporaneamente l'ultima parte la vado ad avvolgere in questo modo l'innesto si viene tenuto compresso a livello verticale e contemporaneamente il nastro svolge la sua tensione di tenuta a livello orizzontale abbiamo appena fatto un classico innesto av con l'innestatrice che noi definiamo essere professionale professionale perché ci permette di lavorare fino a innesti di un centimetro e mezzo senza grosse difficoltà a delle lame in acciaio oblique che sono particolarmente taglienti e permettono di fare un taglio molto molto preciso come vi ho fatto vedere un attimo fa il taglio che viene fuori da questa innestatrice è un taglio perfetto preciso senza sbavature senza spaccettature il legno è pronto per essere utilizzato quindi non ha necessità di essere rifinito non necessariamente con un coltello da innesto passiamo adesso all'altra innestatrice l'altra innestatrice quella forse più famosa che tutti conoscete è l'innestatrice 3 t l'innestatrice 3 t è molto interessante perché permette di effettuare tre tipologie di tagli data la presenza di tre lame differenti in dotazione un taglio ad omega un taglio av serrato quindi fa lo stesso lavoro che faceva all'innestatrice professionale e in dotazione già presenta all'interno della macchina un taglio adesso non lo si vede bene ma un taglio a 2 eccolo vediamo dal martello un taglio a 2 quindi una v più slargata quindi a seconda della tipologia di innesto che vogliamo sviluppare possiamo tranquillamente effettuare la sostituzione delle lame e contemporaneamente innestare con diverse tecniche diverse tipologie come lavora questa questa queste queste innestatrice lavora su tralci e su rami che abbiano un diametro massimo di un centimetro quindi ci andiamo a procurare ipotizziamo il nostro porto innesto sul nostro porto innesto posizioniamo perfettamente centrale il nostro porto innesto facendo in modo che diventi un accettore femmina ecco qui effettuiamo il taglio e il risultato che vediamo è un taglio a u perfetto e pulitissimo lo faccio un po più centrale così cerchiamo di fare un lavoro migliore ecco qui effetto il taglio ed ecco che il mio innesto è perfettamente a uro ho preso una gemma quindi dovrò aspettare dovrà pulire un attimino qui su per poter a questo punto produrre il nostro porta il nostro innesto abbiamo prodotto il porto innesto per poter produrre il nostro innesto andiamo a procurarci un tralcio una marza una futura marza che abbia un diametro pressoché simile e su questa marza andiamo ad effettuare il nostro taglio effettuiamo un taglio sempre particolarmente centrale facendo in modo che diventi il nostro maschio il nostro ma la nostra mazza da poter ancorare alla al porti innesto ecco che il taglio a u è venuto fuori potete vedere perfettamente coincidente a questo punto sviluppiamo lo stesso lavoro che ho fatto un attimo fa facendo in modo di serrare orizzontalmente e verticalmente così da permettere ai fasci vascolari della pianta di stare serrati ben aderenti e di evitare lo scollamento durante la fase iniziale di attecchimento lo facciamo sempre con il nostro nastro doppio ne prendiamo una piccola quantità ce ne bastano una ventina di centimetri eliminiamo la parte non necessaria prima operazione stretch del nastro serraggio orizzontale quindi basta un giro orizzontale poi vado in alto utilizzo l'elasticità di questo nastro per andare in basso in questo modo tengo serrati le due parti dell'innesto e poi mi ritorno in maniera orizzontale sull'innesto così da chiuderlo e da proteggerlo dall'umidità ecco che con il nostro nastro autostringente abbiamo prodotto un nuovo innesto con letteralmente una croce di tenuta e così da evitare lo scollamento non viene più via se tiro non viene via e contemporaneamente una tenuta orizzontale in questo modo l'innesto è perfettamente aderente ed è perfettamente coincidente quindi se fatto con piante su piante compatibili nel giusto periodo fenologico siamo sicuri con una buona probabilità che il nostro innesto sia attecchito e che sia attecchito bene adesso vedremo che con queste forbici con queste innestatrice possiamo anche utilizzare l'innesto av o utilizzare l'innesto omega per fare questo occorre smontare la macchina riserviamo il bullone che tiene la lama tutte le chiavi sono già tutte in dotazione all'interno della confezione quindi non c'è bisogno di portare in giro attrezzi ed ecco che abbiamo appena applicato una taglia ad omega il taglia ad omega lavora sempre sulla stessa impostazione quindi ci procuriamo simuliamo il nostro porta innesto un centimetro circa di spessore centrato perfettamente centrato effetto la pressione sul sull'innestatrice e libero l'innestatrice fatto questo l'innesto è prodotto quindi sul mio porti innesto posso tranquillamente iniziare a lavorare per potermi procurare un'altra marza e fare un altro innesto sempre di un diametro che sia pressoché simile adesso la troviamo tra le tante disponibili ecco qui un diametro pressoché simile è questo iniziamo a procurarci la nostra marza una bottina in posizione complementare quindi in posizione maschio ben centrato quanto più perfettamente centrato meglio è liberiamo l'innestatrice con la pressione opposta liberiamo l'innesto ecco qui il nostro innesto è perfettamente prodotto e pulito possiamo procedere all'inserimento in questo caso dell'innesto all'interno del nostro porta innesto è perfetto in questo cosi diametri si assumino tantissimo fosse stata una innesto in campo avremmo avuto una altissima possibilità di attecchimento proprio perché i due innesti combaciano la protezione stesso lavoro che ho fatto un attimo fa vi ricordo sempre che l'innesto va serrato sia orizzontalmente che verticalmente per evitare che possa sfilarsi quindi un giro orizzontale per evitare che vada in giro e che si possa allontanare si possa allontanare salgo scendo risalgo e completo orizzontalmente in questo modo i due innesti reggono la perfezione salgo scendo risalgo riscendo e ruota orizzontalmente sostituiamo con una lama av e ed è tutto pronto ci procuriamo abbiamo fatto un attimo fa un buon porti innesto effettuiamo il taglio vediamo di che tipologia di taglio si presenta questo è un buon porti innesto di un centimetro lo simuliamo ovviamente ecco qui il mio taglio è perfetto taglio pulitissimo già pronto per poter ospitare già pronto per poter ospitare un porti innesto un innesto pressoché dello stesso diametro effettuiamo il taglio complementare quindi rispettando ovviamente la polarità della pianta quindi la parte vegetativa verso l'alto e gemme verso l'alto effettuiamo il taglio inseriamo l'innesto ed è perfettamente coincidente abbiamo fatto il nostro lavoro chiudiamo sempre con una ventina di centimetri di nastro autostringente e ricordiamoci sempre che per una buona tenuta è necessario si serrare orizzontalmente ma fare in modo che i due e le due frammenti siano serrati anche verticalmente quindi abbiano questa pressione altrimenti possono sganciarsi altrimenti possono staccarsi basterebbe un po di vento un serraggio semplicemente orizzontale non basta basterebbe un po di vento che si potrebbe liberare perché qui non è altro che un punto di cerniera quindi basterebbe un minimo di movimento che potrebbe portare l'innesto non attecchire quindi un piccolo informazione di natura tecnica chiudiamo l'innesto ci aiutiamo pochi centimetri per volta una volta che abbiamo effettuato il serraggio orizzontale siamo al serraggio verticale quindi giro vado su crescendo questo caso ho soffocato una gemma non si dovrebbe fare non si deve fare e voi solo scopo ovviamente dimostrativo il nostro innesto è pronto per poter sviluppare nuova vegetazione sale sale e contemporaneamente scente e a livello orizzontale è sempre ben serrato ben stretto con questa macchina abbiamo visto che riusciamo tranquillamente a effettuare tre tipi di innesti quindi un innesto a omega un innestro a v un innesto a u quindi una v larga semplicemente sostituendo in maniera estremamente semplice della che abbiamo visto basta svitare una vitina nella confezione già trovate tutto e con l'innestatrice che noi definiamo professionale riusciamo a fare innesti di dimensioni maggiori ma anche sotto un certo punto di vista un po più tradizionale quindi il classico innesto a v a seconda delle tipologie di piante a seconda delle essenze che dobbiamo andare a innestare e propagare possiamo decidere se utilizzare una macchina che ci permette di fare un innesto a v oppure una macchina che ci permette di fare un innesto a omega un innesto a v o un innesto a u vi ringrazio per l'attenzione spero di avervi dato abbastanza informazioni riguardo l'utilizzo di queste due macchine se vi interessano le potete acquistare sul nostro sito www.farmaciaagricola.com al prossimo video